Vai! Buonasera a tutti. Per chi non ci conosce, vedo che c'è qualcuno forse che non ci conosce ancora. Comunque noi siamo l'associazione Amici di Bolle. Siamo un'associazione che praticamente facciamo subacquea, sia ricreativa che tecnica. Siamo riconosciuti dalla regione Liguria come centro di formazione di BLSD, quindi di defibrillatore semiautomatico. Stiamo facendo questi webinar grazie o per colpa del Covid-19, però stanno avendo un buon risultato. Diciamo siamo soddisfatti, un buon successo, anche per la pazienza che ha la Ligli di fare slide, di prepararsi molto bene. Questa sera vorremmo parlarvi, per chi non lo è ancora, anche se ci sono collegati anche molti nostri e non nostri allievi, già tech, della subacquea tecnica, che non vuol dire essere di superuomini, ma vuol dire semplicemente fare un tipo diverso di immersione. Diamo la parola al nostro presidente, la signora Liliana Balbi. Sì, in realtà non è, allora ovviamente il webinar è indirizzato principalmente a chi non ha mai fatto un corso tecnico, perché il, per favore i microfoni. Ragazzi potete chiudere i microfoni, per favore, grazie. Ovviamente in prima battuta è indirizzato a chi non ha mai fatto un corso tecnico, no? O a chi è incuriosito dalla subacquea tecnica, o anche a chi ha pensato non la farò mai perché è fuori dalla mia portata, proprio per andare a incuriosirvi, no? A vedere se davvero è fuori dalla vostra portata oppure no, ma nello stesso tempo è un webinar per chi ha già dei corsi tecnici, no? Perché può ovviamente portare la sua esperienza agli altri subacquei e alla fine faremo come al solito un po' di momento di confronto, di dibattito, in modo tale da chiarire eventuali dubbi, no? E aiutare chi magari si è trovato più volte a pensare ma potrei fare un corso tecnico oppure no e non si è mai deciso a farlo, no? Allora magari questa può essere una serata per parlarne un po' e per vedere se quando finalmente riusciremo ad andare in acqua avete voglia di provare a fare questa nuova esperienza oppure no. Anzi questa sera penso e spero di avere tante domande da chi non ha o da chi ha una parte di corsi tecnici e vuole andare avanti. Perché forse più che una spiegazione che noi diamo è più facile per noi darvi delle risposte su domande precise. Quindi vi esorto, io farò come al solito un po' da moderatore, voi fate le domande sulla chat in maniera tale che io poi a seconda del momento o parlo io, mi interrompo, parla la Lilli e interrompo la Lilli e rispondiamo a queste domande. Ok, quindi andiamo a vedere che cos'è la subacqua tecnica ovviamente come vi ho già ripetuto altre volte, noi da quest'anno siamo centro PADI ma comunque siamo tutti e due istruttori PADI e quindi di preferenza ovviamente utilizzo il sistema educativo PADI per farvi vedere i corsi che possiamo effettivamente promuovere e proporre no. E' chiaro che non è tutta la subacqua tecnica che esiste però è quello che noi insegniamo. Quindi questo è un po' brevemente il panorama dei corsi tech-rec e ci tenevamo a sottolineare questa terminologia che usa la nostra didattica di tecnica ricreativa. Cioè hanno cercato di creare un anello di congiunzione tra tutta quella che è la subacqua tecnica e tutta quella che è la subacqua ricreativa proprio perché vedremo questa sera c'è la possibilità per chi è un subacuo ricreativo di provare a fare un primo corso tecnico in cui si imparano tutte le basi teoriche ma si ha un piccolo investimento in quanto attrezzatura, non si deve comprare tutto, che si ha un primo approccio per vedere se effettivamente è di nostro interesse. Quindi vedete nella slide, dovreste vedere la mia freccina che si parte da un discover tech che in realtà non facciamo quasi mai ma un corso tech 40 e lì vedremo uno per uno dopo, un corso tech 45, un corso tech 50 per arrivare invece al capitolo poi dei corsi trimix a cui qualcuno magari è interessato visto se è già tech 50 che si dividono volendo in due parti, un trimix cosiddetto normossico che arriva a 65 metri e un trimix ipossico che arriva a 90 metri. 90 e oltre. Sì, 90 e oltre. Scusate che ho mandato il link a un altro. Anche io l'ho mandato a Graziano. E quindi poi in questo Deplia Manifesto trovate anche indicati i gradi di quelli che sono gli istruttori tecnici. Ecco che allora vedete quello che siamo sia io che Giorgio, tech trimix instructor, vuol dire che possiamo insegnare dal tech 40 fino al tech trimix diver. Mentre invece per quello che riguarda corsi in realtà non espressamente subacquei, nel senso che non prevedono immersioni, Giorgio è anche tech gas blender instructor perché ovviamente quando ci si approccia alla subacquea tecnica ci si approccia anche a tutto un mondo che è quello delle miscele che andiamo a respirare. Ne parleremo un pochino, ne accenneremo qualcosa questa sera, però è chiaro che il poter fare immersioni tecniche è subordinato anche al poter caricare le proprie bombole con le miscele più appropriate e più idonee al tipo di immersione che vogliamo fare. Allora diventa fondamentale appoggiarsi a dei diving che hanno la possibilità di caricare questi tipi di miscele e soprattutto a dei diving che abbiano dei gas blender in grado di fare queste miscele in assoluta sicurezza e di darvi le miscele corrette. Giorgio vuoi dire qualcosa su questo? Sì, diciamo che io quando ho fatto il gas blender la prima volta, l'ho fatto ancora con Massimo Figurella, io da allievo ho fatto il gas blender con Massimo Figurella a Nervi e mai più mi sarei immaginato poi cosa mi sarebbe servito perché io pensavo di fare un po' di nitrox e basta mentre invece poi andando avanti come nella subacquea, come in tantissime altre cose, non si ha mai servito di imparare e quindi mi sono trovato davanti a una centralina, davanti a Del Leglio e umilmente mi sono rimesso a rimparare tutto, anche perché quando l'avevo fatto io non avevo fatto una parte trimix manuale ma solamente teorica. Adesso vi faccio vedere proprio un minutino di video cortissimo ma con una panoramica di quelli che sono i corpi. Grazie. Ok, ovviamente questa era la promo dei corsi di cui abbiamo accennato. Molto accattivante, molto strong. E il motto utilizzato ovviamente è quello di quando una bombola non è abbastanza, no? Perché sicuramente il tratto distintivo di tutti i corsi tecnici è di andare ad aggiungere bombole, cioè scorta di gas. Ecco, ho detto Massimo Figurella, Fabio Figurella, è anche un amico oltretutto, ho sbagliato anche il nome. Quindi, tecnica o non tecnica? Abbiamo messo questa slide per farvi un pochino ragionare, no? Perché magari qualcuno, come dicevamo, ha pensato alla tecnica ma per qualche motivo, no? Non è sicuro che possa fare per lui, no? Non sa se provare oppure no. Allora, sicuramente la subacqua tecnica richiede una preparazione, sia fisica, chi viene in acqua con noi sa che chiediamo a tutti il certificato medico per attività subacqua, no? Di medicina sportiva, però nella subacqua tecnica diventa proprio obbligatorio a livello di didattica, no? Per quello che riguarda noi. Ma soprattutto, io vi ho messo la frase, mens sana in corpore sano, perché quando si vanno a fare le immersioni tecniche, bisogna che ci sia una predisposizione mentale, una preparazione non solo fisica, a queste immersioni. Scusa un attimo, Lili. Graziano, puoi verificare se c'hai il microfono spento, per favore? Ma lo spengo io, faccio prima. Io speravo che lo facessi prima. Fatto. Ok. Vai. Allora, c'è una frase però, Lili, sotto... Ah, ok. Adesso non la vedo più, non vedo più niente. Puoi non ottenere il brevetto. Tutti i corsi tecnici è a valutazione dell'istruttore poter o non poter rilasciare un brevetto. Ovvero sia, mentre se voi fate un corso open e fate tutte le cose che vi chiedono, automaticamente il brevetto vi viene dato perché avete fatto tutto quello che vi chiedono. Nel corso tecnico bisogna che l'istruttore valuti anche non solo la capacità di fare le cose, ma anche, diciamo, un po' la testa di chi ha davanti perché uno potrebbe non essere adatto a quel tipo di immersione. E quindi è l'unico caso, diciamo, nella tecnica, ho sentito anche in altre didattiche che è così, che noi possiamo, anche se voi avete fatto tutto bene, tutto perfetto, valutare che potrebbe essere proprio non adatto a voi. Quindi potresti non ottenere il brevetto lo stesso. Non è mai successo perché obiettivamente se uno... Noi li valutiamo già prima, specialmente se conosciamo i nostri allievi, se uno può fare tecnica o no. Molte volte abbiamo rimandato questa... Magari la voglia di passare da un brevetto tecnico a un altro, abbiamo detto no, guarda, aspetta un attimo, facciamo ancora delle immersioni e poi vediamo. Perché o per capacità, diciamo, tecnica o per capacità mentale bisogna saper valutare. Ovviamente, quindi, quello che bisogna accettare, no, nella subacqua tecnica sono tanto limiti quanto rischi per divertirsi di più. Quindi un aspetto fondamentale che non ho visto collegato a Roberto, però per esempio lui che ha fatto da poco il TEC 40, beh, nel manuale, no, nel manuale del TEC 40 è evidenziato più volte come i rischi aumentino, visto che aumentiamo il nostro tempo di permanenza su tappone e quindi dobbiamo saperli affrontare in maniera corretta. Ora, il motivo per cui magari tanti di voi sono rimasti un po' in billico, no, sul confine ricreativa tecnica, è ben conosciuto dalle didattiche, ovviamente, e lo riportano nei manuali. Io vi ho preso uno stralcio di un manuale del TEC Instructor che dice La subacqua tecnica non è adatta a tutti e non dovrebbe essere presentata come un obiettivo da raggiungere per tutti i subacquei. Pertanto, i corsi tecnico-ricreativi sono indirizzati a quel piccolo segmento di subacquei che desiderano la sfida e sono disposti ad accettare i costi, i rischi, l'esercizio e hanno la forma fisica che questa attività richiede. Pertanto, in conformità a queste considerazioni, è appropriato ricordare a chi non è portato per la subacqua tecnica ricreativa che possono godere all'infinito di avventure subacquee senza mai oltrepassare i limiti della subacqua ricreativa. C'è questo per dirvi, non è che stasera stiamo facendo una presentazione di corsi TEC perché tutti per forza devono provare a fare tecnico o devono decidere di intraprendere questo percorso. Lo facciamo perché crediamo che, soprattutto per chi è deep da un po' di anni e ha una certa esperienza di immersioni, può essere un buon salto, può essere una bella opportunità per provare, per fare esperienze nuove, no? Ma non per questo chi decide invece di rimanere un ricreativo è da sottovalutare assolutamente. Sono percorsi diversi che entrambi portano a grandi soddisfazioni in quella che è la nostra passione assolutamente comune. Soprattutto quando noi incontriamo i subacquei un po' vecchi, diciamo, come capelli bianchi, che sono abituati magari con un monobombola da 15 a farsi i 55 metri, a farsi i 20 minuti di deco, i 30 minuti di deco con un mono da 15 e basta. Che è una cosa, l'ho sempre fatta, non mi è mai successo niente. È molto pericoloso questo. Perché? Perché non abbiamo, siamo su un filo di un rasoio dove un minimo errore potrebbe costarci caro. È per quello che quando scendiamo nella tecnica scendiamo con, come ha detto la Lilli, più bombole per avere più gas e avere gas diversi per poter ottenere una decompressione accelerata. Quindi dei gas che ci permettono di fare meno deco, di farla tutta con il gas di fondo. Quindi che cosa potremmo fare con la subacquea tecnica? Di sicuro l'impatto più evidente sulle nostre immersioni sarà quello di stare più tempo sott'acqua in assoluta sicurezza, perché seguendo i corsi e avendo la giusta esperienza si può stare più tempo nel nostro elemento naturale. Potremmo utilizzare bombole decompressive con miscele per rendere la decompressione più conservativa o per accelerarla, quindi per uscire dall'acqua prima del previsto. Potremmo andare più profondi, perché ovviamente se il TAC 40 è un primo approccio che mantiene la profondità massima, che è proprio anche dei subacquei deep con la ricreativa, dal TAC 45 in poi aumentiamo anche progressivamente i nostri limiti di profondità. Quindi abbiamo la possibilità di andare ad esplorare anche siti di immersione a profondità più impegnative. E questo è chiaro, dipende anche dove andate a fare immersioni. Noi ovviamente se in Liguria c'è dei fondali più profondi per la sua conformazione naturale, le scogliere vanno giù rapidamente, è chiaro che siamo portati a fare subacquei tecniche, perché i relitti che abbiamo a disposizione tendenzialmente sono oltre i 30 metri, e quindi necessitano un approccio più tecnico. In altre regioni magari questo non è richiesto, però ci sono sempre dei punti da esplorare per cui è necessario un addestramento maggiore. Allora perché non valutarlo? Anche perché una volta che uno ha un brevetto tecnico, non è che poi deve fare sempre tecnica. È come quando uno prende la DIP, io ho avuto tanti allievi che prendono la DIP e poi ogni volta vogliono fare le immersioni a 40 metri. Uno deve avere la DIP per fare l'immersione a 40, ma se è più bello a 18, una data immersione. Stiamo a 18, anche se io ho la DIP. Non bisogna sempre per forza andare a picchiare al massimo in autostrada, non bisogna sempre andare al massimo consentito o oltre. Bisogna sempre andare a seconda di com'è la strada. C'è una domanda di Francesco Lilli. Questo direi che tu rispondi molto meglio di me perché senz'altro rispondi meglio. Una domanda. Differenza tra certificato medico da subacqueo o d'attività sportiva come il calcio? Allora in realtà, scusa forse mi sono spiegata male. Allora in realtà i certificati di medicina sportiva sono di due tipi. Sono di medicina sportiva a livello per sport agonistici oppure di medicina sportiva per sport e non agonistici. La subacquea rientra nei non agonistici. Quindi anche se chiedete un certificato di medicina dello sport, ve lo faranno generico. Poi alcuni tipo da noi, uno degli enti che più di tutti utilizziamo per farli, per nostra comodità scrive attività subacquea. Ma in realtà da decreto ministeriale tutta l'attività non agonistica rientra nello stesso capitolo. Quindi i certificati possono non avere esplicitato la dicitura. Mentre invece le attività agonistiche sono alcune, sono ben delineate all'interno dei decreti ministeriali, per cui se uno chiede un certificato per attività sportiva agonistica, va esplicitata la disciplina per cui lo chiede. A titolo di esempio, l'apnea è agonistica e l'atletica è un'attività agonistica, per cui il calcio penso anche che sia classificato come agonistica. Quindi chiaramente se uno fa un certificato di medicina agonistica per il calcio va benissimo, c'è un gradino superiore rispetto al certificato per attività non agonistica. Comunque nel non agonistica potrebbero scrivervi attività subacquea se lo richiedete, ma potrebbero anche non scriverci nulla. Diciamo che se chiedete attività subacquea, almeno un controllino alle orecchie ve la dovrebbero fare, ve lo dovrebbero fare. Ma non è obbligatorio da decreto. Non è obbligatorio, ma in teoria un occhiatino alle orecchie per vedere com'è il timpano dovrebbero farlo. Quindi, adesso ho messo questo specchietto, ma giusto per dirvi che adesso andiamo a vedere i corsi tech rec un pochino più nel dettaglio e arriviamo anche poi al trimix e vediamo che cosa è richiesto e in che cosa consiste effettivamente poi il corso. Gli scopi di questi corsi sono abbastanza semplici. Gli scopi di un corso tech 40 sono quelli di addestrare i subacquei ricreativi e effettuare decompressione fino a 40 metri utilizzando o aria o aria arricchita, praticare immersioni con una durata massima di 10 minuti di decompressione. Ecco, perché vi diciamo che il tech 40 è un primo approccio alla tecnica che vi fa studiare tanto, perché la teoria ve la fa fare tutta, però vi dà dei paletti ben precisi da rispettare sulla base di quella che è la vostra esperienza che fate in acqua durante il corso. Usare aria arricchita nitrox con ossigeno fino al 50% durante la decompressione. Ecco, io direi una cosa. Noi quando facciamo il corso tech 40 ci sono da fare praticamente, adesso poi le vedremo, delle immersioni. Noi addirittura per fare il tech 40 utilizziamo se possibile un EAN 28 come gas di fondo in maniera tale che utilizziamo il più possibile un best mix per fare questo corso in maniera tale da riuscire a stare di più sott'acqua e quindi anche come divertimento è molto più rilassante, diciamo. Quindi utilizziamo un EAN 28 e poi un 50% invece nello stage per poter fare la decompressione. Ovviamente l'EAN 28 lo andiamo a utilizzare nell'ultima immersione del corso tech 40 non in quelle di attrezzamento. Gli scopi invece del tech 45 sono quelli di addestrare i subacquei che hanno già un brevetto tech 40 all'utilizzo di tutta l'attrezzatura tecnica adesso vedremo nel dettaglio ma per il tech 40 non è necessario comprare tantissime cose come vi accennavo effettuare decompressione utilizzando aria o aria arricchita e fare immersioni con un gas decompressivo uno solo ma che può essere anche il 100% di ossigeno mentre invece gli scopi del tech 50 sono quelli di addestrare i subacquei che hanno il tech 45 effettuare immersioni con decompressione fino a 50 metri con aria o aria arricchita e fare immersioni in questo caso con due gas decompressivi fino al 100% quindi uno potrebbe essere un 50% e uno un 100% oppure si possono scegliere miscele diverse. Io vi parlo, ripeto sempre, di brevetti padi ma nulla vieta che ci siano persone con brevetti di altre didattiche che possano essere accettati nei corsi perché ovviamente ci sono dei criteri di equivalenza da didattica a didattica per cui uno può viaggiare tra virgolette da una didattica all'altra portandosi il credito dei suoi brevetti. Ovviamente ci sono delle tabelle che tengono conto di cosa viene istituzionalmente insegnato nei corsi quindi l'istruttore cosa fa? Si fa mandare copia del brevetto dell'allievo una foto e verifica le equivalenze per cosa vale il brevetto visto che alcuni sono leggermente diversi ovviamente. Nel 45 e nel 50 naturalmente le deco sono illimitate la decompressione è illimitata quindi possiamo prendere più decompressione di quanto sia diciamo la rimanenza sul fondo normalmente in un TAC 50 si rimane 25 minuti sul fondo e 35 minuti di decompressione per intenderci. Bene, andiamo a vedere corso per corso un po' nel dettaglio ovviamente per partecipare a un corso TAC 40 bisogna che una persona abbia un brevetto avanzato che abbia fatto una specialità DIP quindi che abbia un brevetto per i 40 metri che abbia fatto un brevetto Nitrox perché deve che se vi ricordate magari non tutti ce l'hanno però è un brevetto che consente di usare l'aria arricchita fino a un massimo del 40% bisogna avere 18 anni per tutti i corsi a livello tecnico e poi bisogna avere 30 immersioni registrate e in più il certificato medico di cui parlavamo prima. Il TAC 45 invece richiede ovviamente il brevetto TAC 40 o un equivalente richiede un brevetto di soccorso subacqueo quindi un reschio e un brevetto di primo soccorso diciamo fuori dall'acqua valido quindi fatto negli ultimi due anni e 50 immersioni registrate quindi vedete che tra un brevetto e l'altro si intervalla anche un numero di immersioni di esperienza. Ecco scusa un attimo Lili nel 45 nel 45 avete visto che ci vuole il rescue è importante perché comincia a farci ragionare su come poter aiutare un subacqueo in difficoltà e quello è molto importante quindi hanno messo come requisito il rescue direttamente sul TAC 45. Il brevetto TAC 50 prevede ovviamente che uno abbia già il TAC 45 e 100 immersioni. Ora la domanda che di solito ci fanno tutti prima di iscriversi a un corso TAC o quando vogliono chiederci come ci si approccia a questi corsi è ma quanta attrezzatura devo comprare? E beh dipende da quanto vuoi scendere a seconda del gradino che vuoi fare dovrai comprare più o meno attrezzatura di solito la maggior parte dei subacqueo e dip hanno una buona attrezzatura di loro proprietà è difficile che un subacqueo e dip non leggi da grosse parti della propria attrezzatura un subacqueo e dip di solito è un subacqueo che ha piacere di avere la propria perché si rende conto di quanto è più efficace avere tutti i GAV proprio gli erogatori propri per garantirne anche la manutenzione corretta per essere più a suo agio quando è in acqua ecco che allora per un TAC 40 in realtà non sono tante le cose che dobbiamo aggiungere dovremmo aggiungere una frusta per l'erogatore più lunga per uno dei secondi stadi più lunga quindi due metri o più poi nel dettaglio ovviamente durante il corso non si pretende che l'allievo arrivi il primo giorno del corso con già tutta l'attrezzatura o meglio siccome ci sarà stato diversi colloqui con l'istruttore in preparazione dell'inizio del corso e beh in questi colloqui con l'istruttore valuteranno l'attrezzatura già in possesso del subacqueo valuteranno che cosa manca e sarà l'istruttore ad indirizzarlo su che cosa comprare proprio per non farvi comprare cose inutili servirà una lavagnetta multipagina un collare che è quello che vedete nella foto che consente di tenere l'erogatore attaccato al collo un DSMB che in realtà dovreste già averlo banalmente è un pedagno potremmo averlo più grande benissimo però lo dovremmo già avere e la muta stagna ma se fate immersione in mediterraneo e siete a un certo livello per cui vi piace andare in estate, inverno in tutte le stagioni tendenzialmente avete già una muta stagna o un gabbisacco in realtà il gabbisacco io l'ho visto veramente poco anche perché la sua gestione non è proprio delle più intuitive quindi una muta stagna per il tipo di immersioni che andiamo a fare può essere sufficiente a tutto questo ovviamente partendo dal fatto come vi dicevo che avete già l'attrezzatura standard è un doppio primo stadio l'esempio banale per noi qua in Liguria è di solito i subacui dip hanno tutti il doppio primo stadio perché se vuoi andare a visitare la haven è obbligatorio quindi di solito banalmente chi vuole andare a vederla si dote e poi perché comunque una volta che uno arriva ad avere un brevetto dip ha una certa esperienza e si rende conto di quanto può essere importante avere una configurazione più ridondante più efficace come il doppio primo stadio questa questa questo diciamo sistema di utilizzare gli erogatori come vedete diciamo con la frusta lunga il collare per il secondo secondo stadio si chiama sistema ogartiano ok e praticamente nella subacquea tecnica si usa molto anzi si usa praticamente esclusivamente questo perché è molto molto semplice non ha diciamo che nella subacquea tecnica meno roba ti porti dietro meno roba ti si può rompere quindi noi lo utilizziamo tutte le didattiche lo utilizzano perché è quello che dicono è meno meno hai meglio è perché meno si può rompere qualcosa quindi la semplicità innanzitutto e è chiamato anche come sistema a specchio infatti se voi vi trovate con davanti un'altra persona con la stessa configurazione è come vedersi allo specchio quindi sappiamo precisamente dov'è tutta la roba ok Graziano dice doppio primo stadio ma con monobombola serve a poco è vero è vero però se dovesse andarti in autoerogazione un uno dei due primi stadi tu lo riesci a chiudere e riesci a lavorare con l'altro è naturale che con un vivo col manifold è tutta un'altra cosa perché perché il manifold non è altro che una saracinesca tra una bombola e l'altra e quindi tu hai sempre mezza mezza scorta d'aria sempre sempre a disposizione però io vedo moltissimi tantissimi che usano tanti il doppio primo stadio anche nel monobombola serve a poco ma serve ecco io diciamo non lo uso non lo uso tante volte sul monobombola però in effetti è una sicurezza in più quindi chiaramente se poi vi appassionate dopo il 340 scoprite che è qualcosa che vi piace e volete andare oltre allora sì che dobbiamo aggiungere qualche parte di attrezzatura un pochino più impegnativa bisogna raggiungere un bibombola bisogna raggiungere un gav tecnico che possa essere utilizzato con un bibombola e andranno ad aggiungere uno o più bombole decompressive vi abbiamo indicato che cosa è disponibile al diving perché noi come vi abbiamo accennato in altri webinar collaboriamo per tutta quella che è la subacqua tecnica con il centro Sub Tiguglio che nasce proprio come diving dedicato alla subacqua tecnica e quindi ha a disposizione molta roba molta roba anzi i bibo gav tecnici e bombole di fase decompressive sono anche cioè la maggior parte sono le nostre quindi possiamo tranquillamente diciamo noleggiarle senza problemi quindi però diciamo che appoggiandoci a questo diving abbiamo la possibilità di darvi sia l'attrezzatura tecnica sia garantirvi l'utilizzo delle miscele essendo loro dotati sia di booster che di centralina naturalmente questo bacco che vedete con le quattro bombole come vedete non è in difficoltà perché le bombole e le stage anche se abbiamo tre o quattro bombole dietro sono completamente neutre quindi cosa vuol dire che non pesano non ci portano verso il basso anzi in qualche caso galleggiano anche perché quando una bombola è piena di elio o ha una buona parte di elio questa bombola di alluminio gli stage sono quasi tutti di alluminio cercano di andare verso l'alto quindi non è un peso che ci portiamo dietro è solamente sapere come gestirle bene andiamo a vedere come si strutturano i vari corsi tanto per farvi capire qual è effettivamente l'impegno richiesto allora tenete conto che nel TEC 40 la teoria è una parte notevolmente impegnativa nel senso che nel TEC 40 pur essendo un corso abbiamo visto con paletti ben precisi come limite di profondità e come limite di tempo di decompressione massimo ma vi dà tutte le basi teoriche della tecnica quindi la teoria è piuttosto corposa ci sono delle applicazioni pratiche una in particolare è più laboriosa rispetto agli altri corsi perché è la preparazione dell'attrezzatura l'assemblamento dell'attrezzatura ovviamente essendo il vostro primo approccio alla tecnica l'istruttore dovrà dedicare più tempo a configurare la vostra attrezzatura nella maniera più corretta e ci sono quattro immersioni mentre invece per quello che riguarda il TEC 45 ovviamente la scaletta si ripete la struttura dei corsi è molto simile pur cambiando i contenuti abbiamo di nuovo tre moduli teorici anche se la teoria va via via a essere più semplice e più snella di nuovo tre applicazioni pratiche e di nuovo quattro immersioni di tutte e due le quattro immersioni anche poi nel TEC 50 le prime due specialmente si fanno in acqua bassa non si va a 40 metri diretti si fanno a fare degli esercizi a 10 12 metri di profondità e praticamente si fanno gli esercizi che poi dovremmo fare magari a 40 metri o a 45 metri però si comincia sempre a farli in acqua bassa stesso discorso per il TEC 50 dove vedete si riduce ancora di più la teoria anzi chi i ragazzi che hanno fatto abbastanza di recente il TEC 50 sanno che anzi l'ultimo capitolo del TEC 50 è un primo approccio al Tremix è un lancia le basi per dire che ne dici di pensare ad andare ancora oltre ci sono di nuovo tre applicazioni pratiche e anche perché in questi corsi andiamo a imparare a usare i software decompressivi per crearci le tabelle per capire effettivamente quanto possiamo stare sott'acqua se qualcuno l'open l'ha fatto qualche anno fa ha usato le tabelle dell'open per calcolare i profili delle immersioni il tempo di sicurezza qua ovviamente siamo uno successivo i dati che si utilizzano sono molti di più esistono dei software per pc che vanno a generare proprio delle tabelle in cui abbiamo i vari scalini da seguire per la risalita man mano a seconda del tempo che siamo stati a una data profondità ci dà le tappe per ritornare in superficie in sicurezza è fondamentale avere un'ottima padronanza di questi strumenti ovviamente poi si imparano ad usare anche i computer perché ormai ci sono computer che utilizzano le miscele ternarie che utilizzano i gaste compressivi ce ne sono miriadi e ovviamente si va con l'istruttore a vedere il computer di cui si è dotati e si cerca di utilizzarlo al meglio di sviscerarne ogni caratteristica ogni particolarità per saperlo usare adeguatamente e nel migliore dei modi anche in questo caso nel tech 50 sono quattro immersioni vi vorrei far notare che per quello che è la tabella di conversione a livello internazionale dei brevetti in realtà per arrivare ad andare a fare immersioni a 50 metri anche le altre didattiche hanno 12 immersioni possono essere subite in maniera diversa ma il totale finale di esperienza è quantificato allo stesso modo altrimenti non ci potrebbero essere le equivalenze per un passaggio da una didattica all'altra quindi anche se le suddivisioni possono sembrare diverse in realtà poi il totale è equivalente passando e accennando ai corsi trimix se qualcuno ha già il tech 50 e vuole sperimentare anche questo e vuole avere due dritte anche su questo argomento il corso trimix è ugualmente suddiviso in due parti come vi dicevo un un ormossico con un massimo di 65 metri un ipopsico con 90 metri e oltre ma già nel 65 la teoria viene fatta tutta quindi chi decide di fare un tech 65 e non subito tutto il percorso fa comunque tutta la parte di teoria perché è essenziale per utilizzare le miscele ternarie avere tutte le basi della teoria avrà quattro moduli teorici quindi avrà quattro applicazioni pratiche e ho messo quattro barra cinque immersioni perché in realtà ovviamente ci sono dei crediti che vengono riconosciuti al subacqueo se sta facendo tutto il percorso tecnico con lo stesso istruttore se ha appena fatto nell'arco di sei mesi il tech 50 con quell'istruttore potrebbe dargli un credito su una delle immersioni e quindi fargliene fare quattro invece che cinque questo nell'ottica di un'ottimizzazione dei costi ovviamente il tech trimis che a questo punto avrà i quattro moduli teorici che sono gli stessi del 65 ecco che se passa troppo tempo tra un corso e l'altro andrà ripetuta la parte teorica ma se dovessero poi essere fatti a stretto contatto è chiaro che la parte teorica è la stessa ci sono cinque applicazioni pratiche ci sono otto immersioni in realtà le otto immersioni comprendono anche quelle del tech 65 quindi se uno fa i due percorsi separati poi nel tech trimix non andrà a farne otto ma ne andrà a fare un po' meno ecco una cosa che magari molti possono anche non conoscere bene la differenza perché c'è questo gradino 65 e oltre quando parliamo di normossico vuol dire che noi possiamo respirare il gas di fondo quindi il gas che ci porta fino a 65 metri partendo dalla superficie quindi noi ci buttiamo dalla barca direttamente con l'erogatore in bocca con lo stesso gas che ci porta fino a 65 metri quando parliamo di ipossico quindi di un gas a basso contenuto di ossigeno vuol dire che noi dovremo buttarci dalla barca e arrivare fino a una profondità che può variare dai 6 ai 10 metri con un gas diverso da quello che usiamo per andare fino in fondo questo perché perché essendo come dice la parola ipossico quindi a basso contenuto di ossigeno questo potrebbe non bastarci come pressione parziale per poterci fare respirare in superficie quindi è come se noi respirassimo dentro un sacchetto e quindi l'anidride carbonica e quello che buttiamo fuori fa sì che non sia più un ossigeno al 21% ma diventa meno di 18% arrivato a un certo punto questo ossigeno ci manca e non potremo sopravvivere quindi a quel punto lì respiriamo un gas da viaggio un gas di viaggio che praticamente ci porterà fino alla profondità di 6 8 10 metri in maniera tale che poi ripiglieremo il nostro gas ipossico che a quella profondità lì si può respirare tranquillamente perché la pressione parziale è cambiata e a quel punto lì andremo fino ai 90 e oltre metri poi l'altra domanda di solito che attanaglia la maggior parte delle persone che hanno magari curiosato un po' in internet si sono accorti che tutta la parte della subacquea tecnica arriva comunque dal mondo anglosassone o comunque dal nord Europa diciamo che la subacquea tecnica nasce da tutti quei corsi tipo il cave quindi sono tutte diramazioni sono tutte evoluzioni di una subacquea molto particolare e allora dicono ma dai saranno tutti manuali in inglese tutte le informazioni in inglese io come faccio e no allora in realtà no abbiamo tutto in italiano ve lo stampiamo noi non è fornito da da Padi Worldwide perché non l'hanno ancora sono un po' indietro sulle traduzioni però abbiamo tutti i manuali dal Tech 40 fino al Trimix anche il Gas Blender grazie grazie ovviamente alla lungimiranza di direttori di corso persone che hanno dedicato il loro tempo a fare questa importante opera di traduzione per consentire a tutti di poter leggere un manuale soprattutto su argomenti così importanti in cui è fondamentale che tutto sia il più chiaro possibile quindi quello che vorremmo insomma questa stasera era abbastanza una carrellata veloce di tutti per darvi alcuni spunti che speriamo adesso si tramutino in domande in curiosità in una sorta di dibattito che potremmo fare ma ovviamente il messaggio è noi stiamo cercando di fare più webinar possibili stiamo cercando anche per noi di tenerci coinvolti di tenervi coinvolti di tenervi compagnia di aiutarci a superare questo periodo un po' difficile è chiaro che non possiamo toccare tutti gli argomenti del mondo e soprattutto non vogliamo né tediarvi né assillarvi dicendovi ah ma facciamo questo facciamo quello facciamo teoria quindi vedete che tutti i webinar che facciamo sono gratuiti sono aperti a tutti ma se qualcuno ha tempo a casa e ha voglia di dedicare un pochino di questo tempo a studiare ad approfondire qualche argomento anche in un subacqua tecnica ma anche qualche altro brevetto c'è la possibilità di organizzare qualsiasi tipo di lezione teorica via zoom o via comunque un sistema remoto a distanza quindi se ne avete voglia siate voi a chiedercelo siate voi a dirci ma a me piacerebbe fare il corso X possiamo farlo perché noi saremo veramente ben contenti di organizzare vogliamo neanche costringervi in qualche modo abbiamo Graziano che ha fatto il corso ha fatto il corso Nitrox questo periodo e quindi le occasioni ci sono sicuramente se qualcuno ha voglia noi siamo più che disponibili e potete scriverci alla mail o insomma con tutti i contatti che avete di messenger o whatsapp e quant'altro quindi chiudiamo con questo slide con che ne dite perché vorrei che non la solita domanda con me e Gerry cerchiamo di questo davanti sono io e quello dietro a Gerry è quello che prima parlava con la Rantega ok quindi io adesso stopperai la registrazione con le